Musica Gestire i pazienti con cardiopatie congenite diventati adulti richiede non soltanto competenze culturali, scientifiche e mediche, ma anche un'organizzazione. Nel nostro Policlinico, qui nel Policlinico di San Donato milanese, abbiamo istituito una unità dedicata all'interno del Dipartimento per le Cardiopatie Congenite in Età Pediatrica con personale dedicato medico, paramedico, psicologi, counselor e anche un'assistenza mirata e gestita dai pazienti con l'Associazione AICA, Associazione Italiana dei Cardiopatici Congeniti Adulti. Tale struttura rappresenta sicuramente un unico panorama sanitario italiano e permette la gestione non soltanto dell'acuto, ma anche del follow-up di questi pazienti. Avere una struttura dedicata permette anche di attivare progetti di ricerca clinica e progetti di ricerca di base che possono migliorare l'assistenza a questi pazienti, la cui aspettativa di vita diventa sempre più quella di un soggetto normale. Certamente non può essere ancora oggi considerata tale, ma sicuramente il miglioramento potrà permettere di raggiungere anche questo obiettivo.